Noi ci saremo, e sì, da sabato prossimo noi seguiremo con voi e per voi il nuovo attesissimo campionato di calcio d'eccellenza 2017-2018 e lo faremo direttamente dallo stadio, nello stadio, attraverso i commenti, le interviste dei protagonisti e i risultati. Vi aspettiamo a Caserta Sera Stadio, Valentina a te la linea. Sì Maria, ci sarò anche io ed entrerò negli spogliatoi delle squadre per incontrare i protagonisti della giornata. Naturalmente su casertasera.it, con Valentina Monte e Maria Cavicchia.